segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te signori allora secondo me scusate adesso siccome ho sentito di regalazione dire una fake news di che esiste se esiste il documento la notizia è il documento secondo continuerà a continuare a venire fuori le cose di questi contatti e di questi colloqui se ci sono stati stai pur sicuro che una volta ad occhiati una volta ad occhiati queste storie continueranno a venire fuori e sarà adesso no è perché adesso in questa parte dell'estate si parla si candidano quanti candidati già fratelli italia solo vediamo ma sì queste totali fesserie insomma interessanti però ma insomma fino a un certo punto è ovvio che è gustoso sapere se candi notizio caio sempronio ma questa è una cosa enorme e io penso che quando si avvicinerà il momento della verità questa storia tornerà a galla perché delle due coalizioni una è data per vincente il centro destra una data per perdente ma mentre quella perdente pd calenda e non so chi altro ha una sua compattezza nel profilo internazionale quella vincente o giorgio meloni chiede a questi qua di fare chiarezza al berlusconi di cicciotta michelammare uscì dicendo parlando a bambera dicendo che zaneschi doveva dar retta a putin ascoltare i consigli o gli chiede un atto di chiarezza ma non basta dire sono filo occidentale mi piace la nato mi piace l'europa perché quelle sono cose che non costano nulla